A ringiovanimento del volto con i fili di trazione, il dottor Leucio Iacobelli esegue una dimostrazione davanti al pubblico durante il corso di aggiornamento di Apiramedica, lo vediamo. Abbiamo fatto il corso con i fili Rainbow, sono ottimi, sono fatti di materiale poliossamone, polilattico o policapronolattone, che hanno una differenza nel riassorbimento. Poliossamone, vediamo, assorbite un po' più velocemente, 7-8 mesi, polilattico sui 10 mesi e policapronolattone 12-15 mesi. Diciamo che il filo è un incipit, cioè è un inizio per una fibrosi che viene in un secondo momento, il filo si riassorbe facilmente, però dopo lascia una piccola fibrosi, quindi dà il prolungamento del trattamento, quindi un risultato maggiore.